Musica Ed eccoci in diretta di nuovo un saluto a tutti voi da Telefriuli Gli approfondimenti di A voi la linea oggi partono da quello che è il tema della giornata vale a dire le riaperture si riparte oggi ripartono i locali che ancora erano chiusi le attività commerciali che ancora erano chiuse Daniele Paroni ha incontrato nel cuore di Udine il sindaco del capologo Friarano Pietro Fontanini che ha ricordato come il comune di Udine sia stato il primo a concedere gratuitamente gli spazi esterni ai locali Il grande giorno è arrivato, allora sindaco qualcuno sta già approfittando della possibilità di occupare qualche metro in più? Finalmente il giorno è arrivato le persone hanno ripreso la città in mano io sono contento di vedere già oggi lunedì chiaramente qualcuno ha ancora un po' di timore magari di frequentare il centro della città però alcuni commercianti hanno già capito che si può ampliare lo spazio del suolo pubblico mettere più tavolini permettere a più gente di poter sedersi e consumare il cappuccino, la briosso insomma le cose che si mangiano in questa occasione Senta, le regole cosa stabiliscono in questo momento? Voi avete dato la possibilità fino a ottobre? Fino a ottobre questi spazi resteranno anche perché poi la stagione cambia è chiaro che all'aperto è difficile continuare a operare fino a ottobre è gratis, non si paga niente l'occupazione è solo pubblico quindi tutti sono autorizzati a usufruire di questi spazi e questo permette di aumentare il numero anche così dei posti a sedere, dei cosiddetti coperti per permettere agli esercizi di poter operare economicamente per fortuna la distanza tra le persone è diminuita adesso basta un metro e questo permette anche di non aumentare in maniera smisurata le superfici per poter aspettare un numero discreto di persone Ecco abbiamo visto che questo locale sporge già con alcuni tavolini però ricordiamo che in piazza San Giacomo potrebbe essere occupabile anche il plateatico Sì, anche il plateatico, qui adesso aspettiamo i progetti che i vari commercianti ci presenteranno e poi saranno autorizzati dopo anche l'ok della sovrintendenza a occupare il plateatico quindi questa piazza avrà la possibilità veramente di aumentare in maniera molto alta i numeri delle persone che possono venire qui a consumare in pratica l'aperitivo, il caffè, l'abrioso, insomma questi prodotti Senta, dopo questi due mesi di chiusura forzata Udine ha cambiato volto o no? Un po' l'ha cambiato perché questa zona ad esempio è interdetta alle macchine quindi non si può entrare in nessun modo così anche altre zone della città nel centro storico sono precluse alla viabilità in questo modo aumentiamo in maniera molto significativa gli spazi pedonali e questo cambia il volto un po' della città Io spero che questo premi soprattutto la voglia di tornare in città a consumare, a fare shopping perché un'altra sfida importante oltre alle attività del bar e ristorazione è quella dei negozi i negozi sono un momento difficile, non facile io spero che i cittadini tornino in città ad acquistare perché tante attività commerciali operano nella città e vogliono avere in pratica quella flusso di clientela fondamentale per far sì che il business insomma vada avanti Una domanda che ho rivolto anche al Presidente della Camera di Commercio di Udine Pordenone da Pozzo quei cartelli disegnati dai bambini andrà tutto bene? Possiamo dire che andrà tutto bene Fontanini? Andrà tutto bene fino a un certo punto l'ottimismo è sempre una cosa positiva però qualcuno purtroppo non riuscirà ad aprire o quando aprirà magari non riuscirà a dare continuità alla propria attività commerciale perché purtroppo la crisi è pesante e soprattutto penso che questi mesi di chiusura abbiano un po' condizionato alcune attività però spero, anzi sono certo che la maggioranza dell'attività commerciale della città riprenderanno e il risultato sarà positivo io spero, mi diceva prima Commerciante che Udine torni a essere quel grande supermercato ipermercato che è sempre stato e che fa parte della storia di questa città Bene, io ringrazio il Sindaco di Udine Pietro Fontanini con la collaborazione tecnica di Gian Domenico Ricci a voi la linea E allora grazie a Daniele Paroni da Udine ci spostiamo a Pordenone anche lì area di ripartenza il gusto di un caffè al bar e baristi con il metro alla mano Anche Pordenone ritorna pian piano alla normalità con l'apertura oggi dei bar, dei ristoranti ma anche delle parrucchiere, degli estetisti e dei negozi di abbigliamento in centro c'è parecchia gente c'è voglia di tornare alla normalità allora abbiamo fatto un giro nei negozi che riaprono nella Pordenone che torna finalmente a rivedere la luce del sole un buon caffè al bar di nuovo finalmente la soddisfazione più bella guardi di prendere il caffè con la brioche finalmente e di non aver paura che nessuno ci guardi ecco questa è una bella soddisfazione dai adesso speriamo che tutti quanti mettano un po' di giudizio e che riusciamo a saltarne fuori ci siamo dopo nove settimane di chiusura oggi si riprende abbiamo anche una bella giornata quindi il tempo ci viene anche incontro come prima mattinata sono le prime due o tre ore di lavoro devo dire che ho visto anche un po' di gente che è venuta a salutare è venuta a vedere il locale abbiamo rifatto il locale nuovo abbiamo approfittato anche di questo tempo di chiusura per sanificare per pulire, igienizzare diciamo che ripartiamo da zero da oggi quello che magari io chiedo anche adesso alla clientela agli amici mi raccomando bisogna riprendere la vita di prima piano piano sarà sicuramente lungo e un po' faticosa ma dobbiamo comunque ritornare alla nostra normalità e alla nostra convivialità certo è che siamo partiti con mascherine siamo partiti con delle regole che per fortuna si sono un po' alleggerite rispetto ai primi sentori della scorsa settimana diciamo come riferimento avevamo le indicazioni dell'Inel che erano un po' troppo restrittive e sarebbe stato praticamente impossibile aprire per chiunque così insomma ci siamo un po' più adattati alla realtà anche dei locali in questa maniera si riesce anche a lavorare e si riparte soprattutto un metro alla mano assolutamente sì abbiamo già segnato sul bancone si segnerà a terra poi ognuno con il proprio layout si sistemerà la situazione che meglio crede è chiaro che mascherina d'osso già l'igienizzante deve essere sicuramente presente all'ingresso sul banco in prossimità dei bagni seguiamo queste poche indicazioni e sicuramente riusciremo a passare anche questa poi sta noi imprenditori insomma cercare di farci coraggio essere tutti uniti e cercare di andare avanti i bar hanno riaperto tutti stanno riaprendo tutti o c'è anche qualcuno che nel frattempo ha dovuto abbassare le serrande probabilmente non riaprirà più questo attendiamo i prossimi giorni sicuramente non tutti hanno riaperto oggi un po' anche perché i decreti sono stati firmati in tarda serata di ieri quindi magari qualcuno oggi ha fatto una giornata di attesa per capire un po' meglio come fare sicuramente i nostri uffici oggi sono con i telefoni caldi perché ci sono un sacco di domande ci sono un sacco di situazioni da sistemare e da limare però ripeto due o tre giorni ci mettiamo sicuramente in carreggiata e dopo di che cerchiamo di andare avanti meno clienti naturalmente dentro perché la distanza va mantenuta all'esterno invece ci si può un pochino ampliare di più anche grazie insomma al comune sì all'interno per esempio per quanto ci riguarda abbiamo perso perso circa un terzo dei tavoli sia nella saletta di là che in sala di qua abbiamo tolto il 30% dei tavoli all'esterno non perderemo posti a sedere o tavoli perché anche grazie all'amministrazione comunale che ha semplificato le richieste di autorizzazione per aumentare il plateattico quindi ci permettono di allargarci senza oltretutto avere spede supplementari che in questo momento sarebbero pesate e gravate su di noi riusciamo a sistemare i tavoli un metro l'uno dall'altro o meglio le sedute un metro l'uno dall'altro in modo che sia non il tavolo ma la seduta e la persona devono essere un metro l'uno dall'altro un metro la mano in sé com'è tornare al bar sedersi poter bere un caffè rivivere rivivere indice di ripresa speriamo mamma mia ma l'aspettavamo da tanto tempo questo il sacrificio è già durato parecchio sì sì oggi partiamo siamo pronti stiamo aspettando adesso l'ultima sanificazione dei locali e dopo insomma ricominceremo ad accogliere con le dovute distanze tutti c'è molta ci sono molte chiamate il telefono squilla da due o tre giorni siamo positivi ecco per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico voi che avete qui i tavolini all'esterno come pensate di organizzarvi su questo? ma guardi adesso noi l'idea come i miei soci è di partire di mantenere comunque sempre le distanze come da normativa e di vedere i primi giorni come è l'evoluzione ci sarà un'evoluzione continua quindi tanto faremo questi primi 4-5 giorni e dopo vedremo come andrà avanti diciamo che l'amministrazione con la normativa che ha fatto insomma ci ha dato la possibilità di ampliarci e anche di non pagare soprattutto il suolo pubblico che è una cosa insomma importante in questo momento dove le aziende hanno perso tantissimo quindi la voglia è quella di ritornare subito in moto e di richiamare più ragazzi possibili quindi ne abbiamo tanti alcuni sono rimasti in cassa e speriamo nel giro di pochi giorni di poterli richiamare tutti ci si augura che tornino i clienti affezionati e speriamo bene però è bello vedere qualcuno intanto che si sta risedendo sì 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 molta soddisfazione i clienti affezionati non tornano non ci hanno dimenticati e dunque per attività che ripartono altre che però purtroppo si fermano stiamo parlando dei concerti perché FWG Music Live ha comunicato oggi che sono stati annullati i concerti di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini che sarebbero dovuti tenere a Lignano sabbia d'oro quest'estate in particolare il 21 giugno e il 30 maggio sono stati posticipati così come gli interi tour dei due artisti al 2021 i biglietti saranno validi quelli già acquistati appunto anche per la prossima data le vendite sono momentaneamente sospese invece per i biglietti ancora invenduti e verranno comunicate presto le modalità per partecipare appunto ai concerti dell'estate a questo punto del prossimo anno noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria torniamo tra pochissimo insieme ben ritrovati dopo Udine e Pordenone vediamo il clima di ripartenza a Monfalcone buongiorno siamo in centro a Monfalcone abbiamo voluto questa mattina essere testimoni della ripartenza noi crediamo moltissimo nel micro imprenditore che con sacrificio ogni giorno pensa a come sbarcare il lunario soprattutto in questo periodo abbiamo voluto essere non solo testimoni ma anche attivamente partecipi di questa ripartenza abbiamo messo a disposizione su tutto il territorio comunale le aree affinché ci sia la possibilità nel rispetto del distanziamento sociale di poter frequentare un bar una trattoria un ristorante una pizzeria nel limite appunto delle distanze ma con la possibilità di una redditività che consenta la copertura dei costi che altrimenti ciò non potrebbe avvenire abbiamo anche comunicato i 300 mila euro di contributi che abbiamo messo a disposizione per i micro imprenditori al fine di poter adeguare le loro attrezzature i dispositivi tutto ciò che serve per poter ripartire è una realtà frizzante noi percepiamo la voglia di fare siamo con tutti coloro che hanno voglia di lavorare questa è l'Italia che amiamo l'Italia che si impegna l'Italia che fa i sacrifici che offre posti di lavoro e noi seriamente e in maniera fattiva quest'anno abbiamo lavorato affinché ciò accadessimo un falcone oggi il messaggio anche di questa maglietta che vuole dire venite a comprare in Friuli state in Friuli Venezia Giulia comprate a Monfalcone e un messaggio poi concretamente abbiamo fatto anche le azioni un caffè per ripartire per raccontarci la ripartenza di Gorizia anche per il sindaco del capologo Isontino Ziberna questo è simbolicamente anche perché non so quanto sono a distanza di sicurezza si sente un pochino meglio un po' così ecco il piacere un lunedì che generalmente a Gorizia è una giornata morta una mattinata morte abbiamo la città magari dopo faremo anche un videato intorno una città piena zeppa di gente gente che esce con gli animali con i parenti con gli amici con i bambini che stanno correndo in città ecco è davvero l'inizio di un nuovo periodo un nuovo periodo che non toccherà certamente come prima saremo costretti per la nostra e per l'incomunità e per l'assoluto degli altri sono costretti a convivere con queste abitudini perciò la distanza di sicurezza dovremmo assolutamente continuare a rispettarla le mascherine e dispositivi di sicurezza assolutamente sì però anche in questo modo ormai ci siamo già abituati a rioccupare gli spazi nostri cominciare perciò a frequentare i bar i restauranti frequentare il commercio goriziano invitare coloro che non abitano a Gorizia a consumare a Gorizia e ovviamente anche a Gorizia a consumare a Gorizia non poteva che essere migliore di oggi il tempo clemente questa bellissima giornata di sole ha indotto le persone a uscire perciò consideriamo questa giornata come la prima giornata di tante altre giornate come città assicuriamo come giunta come maggioranza tante altre iniziative ma anche luoghi di aggregazioni più ampi dove i cittadini potranno tornarsi in assoluta sicurezza vorremmo stupirvi con effetti speciali e lo faremo ed è per questo motivo che non svelo tutto ciò che l'ha giunta e l'intenzione di realizzare nel prossimo settembre e ritorniamo a Udine dove siamo partiti in questo viaggio ideale nel giorno delle riaperture per vedere come si è organizzato un barbiere senta fra le cose che sono mancate di più in questi mesi di coronavirus il taglio dei capelli esattamente che ne vale della nostra salute psicofisica nostra ma anche di quella dei clienti non è più solo il semplice taglio di capelli ecco è un piccolo gesto una piccola routine che ci fa stare sempre bene sempre al nostro agio sia con noi ma anche soprattutto con le altre persone adesso che si ritorna un po' alla normalità diciamo riapriamo con orari anche un po' più lunghi un po' più estesi per venire incontro alle esigenze anche di sanificazione quindi tra un cliente e l'altro con tutto ciò che ne consegue anche le mantelline monouso e tutte le cappe usa e getta e faremo per il momento solamente l'esecuzione dei capelli le barbe per via della mascherina le riprenderemo un po' più avanti i ragazzi non è rimasto nessuna casa semplicemente ci alterniamo su turni quindi lavoreranno due persone alla volta con due poltroni anche se l'ambiente è molto ampio si poteva magari anche fare forse anche uno un cliente in più ecco diciamo siamo passati da cinque postazioni a due però per assoluto di tutti continuiamo così finché sarà necessario e vi portiamo idealmente all'aria aperta con un'anteprima in chiusura di questa puntata di A Voi La Linea un'anteprima del documentario realizzato da Marco Virgilio e Ivo Pecile sulle fioriture che si sono succedute lo scorso anno nell'area verde della Carciana il meraviglioso giardino botanico del Carso che oggi riapre le porte al pubblico un filmato che è stato curato da IANUS ROGOS Società Cooperativa e Regione Friuli Venezia Giulia e con questo ci salutiamo grazie per aver seguito a voi la linea grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mio carso è duro e buono. Ogni suo filo d'erba ha spaccato la roccia per spuntare. Ogni suo fiore ha bevuto la rassura per aprirsi. Grazie a tutti. Ovviamente riassumere in brevissimo momento la storia di 50 anni risulta un fatto assolutamente impossibile. Direi innanzitutto che il giardino, come tutti i giardini botanici, ha la funzione di dare voce alle piante, fondamentalmente di emozionarci, emozionare i visitatori, soprattutto nei momenti in cui le piante non sono in fiore, perché tutto sommato è facile essere presi da un certo entusiasmo di fronte a grandi fioriture o momenti di bellezza espresse proprio dal fiore stesso. Insomma, in realtà le piante sono interessanti di per sé, a prescindere appunto dal fiore. I fondatori di Carsiana avevano molto chiaro il valore dell'ambiente della landa carsica. Questo perché già negli anni 60 si avvertivano i primi mutamenti in atto sul territorio legati al cambio delle attività socio-economiche, in particolare l'abbandono della pastorizia e delle attività legate all'agricoltura di tipo tradizionale. In questo senso i fondatori di Carsiana erano stati estremamente lungimiranti nel avvertire, nel percepire il valore di questi ambienti. Ambienti che sarebbero stati valorizzati a livello normativo europeo soltanto a partire dagli anni 90 con la direttiva Habitat. Il giardino botanico Carsiana si trova nel comune di Sgonico, a 18 chilometri da Trieste, lungo la strada provinciale che collega il paese di Gabrovizza a quello di Sgonico. Il giardino fu ideato con l'obiettivo di raccogliere, conservare ed illustrare la flora e la vegetazione spontanee del Carso, inserite in un contesto naturale. Esso si sviluppa infatti in una dolina in cui sono apprezzabili le principali conformazioni geomorfologiche del territorio carsico. Dalla landa alla boscaglia, dal bosco al carso montano, dalle rupi ai ghiaioni, il giardino ospita le principali formazioni vegetali del Carso, con 600 specie autoctone. Carsiana è quindi una perfetta sintesi del paesaggio carsico, che consegna al visitatore un quadro esaustivo dei principali aspetti ecologici di questo meraviglioso territorio. Il giardino è aperto dal 21 marzo fino al 3 novembre. La visita è possibile in autonomia, con l'utilizzo della cartoguida tradotta in quattro lingue, ma anche prenotando una visita guidata con il personale tecnico, che accompagnerà il gruppo lungo i percorsi del giardino, spiegando esattamente le caratteristiche di ogni habitat che è stato qui ricreato, ma anche delle piante più tipiche che valorizzano questo luogo. Grazie a tutti Grazie per la visione!